Sì, sicuramente è quella cosa che voglio, comunque è quella di far parte di questo ciclo, spero che sia un ciclo vincente, abbiamo dei grandissimi obiettivi e siamo felici perché comunque avere grandi obiettivi significa che siamo una grande nazionale che dobbiamo punterare al massimo, quindi adesso il nostro primo obiettivo è la partita di lunedì che sarà molto importante per noi e poi penseremo ad altro, però la cosa più importante qui in nazionale è pensare partita dopo partita perché basta poco per sbagliare, quindi bisogna essere concentrati al massimo, sarà una partita difficile e dobbiamo pensare a lunedì. Sicuramente il giorno è difficile, però se vogliamo punterare al massimo dobbiamo passare per questo girone, dobbiamo cercare di fare al meglio, siamo tutti fiduciosi e ottimisti che se facciamo quello che sappiamo penso che abbiamo moltissime possibilità di arrivare al mondiale. Prima di tutto dobbiamo pensare al bene della squadra, quindi se il mister può essere pure che ognuno di noi si sente meglio in un'altra posizione, però se per il bene della squadra deve fare in un'altra posizione o permette alla squadra di giocare meglio, per me non c'è un problema, mi mi adatto, quindi come ho detto prima, a principale giocavo a mezzala, quando giocavo al Pescara giocavo davanti a difesa, quindi non ho un ruolo preferito dipende da quello che il mister richiede da me. Prima non abbiamo avuto tantissimo tempo per preparare la partita con la Francia, quindi per il momento è difficile dare giudizio, è difficile vedere già il gioco che richiede Ventura, qualcosa c'è, forse teniamo più la palla, siamo più una squadra che aspetta i movimenti avversari per cercare di colpirli e farli male, quindi con Conte forse andavamo più veloci verso la porta avversaria, adesso cerchiamo di tenere più il possesso per cercare di trovare spazi quando gli avversari ci permettono. Grazie